Trasferimento preparati alla battaglia Selecciona il tuo errore Forza Nevino, hanno bisogno del nostro aiuto Risolverò la questione 5, 4, 3, 2, 1, catturate la bandiera nemica È il momento! Siamo pronti? La vostra squadra ha la bandiera La vostra squadra ha catturato la bandiera La vostra bandiera è stata riportata alla base Recuperate la vostra squadra La vostra bandiera è stata riportata alla base A zero La vostra squadra ha la bandiera La vostra squadra ha la bandiera Recuperate la vostra bandiera La vostra bandiera è stata riportata Il nemico ha preso la vostra Recuperate la vostra Il nemico ha preso la vostra bandiera La vostra squadra ha la bandiera La vostra squadra ha lasciato cadere la bandiera La vostra squadra ha la bandiera La vostra squadra ha catturato la bandiera Punteggio 4, au Scarico gli otteri La vostra squadra ha preso la vostra bandiera La vostra squadra ha lasciato cadere la vostra squadra Recuperate la vostra squadra La vostra squadra ha catturato la bandiera La vostra squadra ha la bandiera Recuperate la vostra Recuperate la vostra La vostra squadra ha la bandiera Bandiera catturata Torretta nevica individuata. Distante. Azione migliore della partita. Mistoso! Grazie Kando! Grazie! 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 Grazie!